Buongiorno o buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 970 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Diciamo che questo capitolo è stato un casino tremendo, Oda ha giocato molto sulla velocità delle azioni nelle vignette, infatti alcune parti sono state difficili da capire, naturalmente parlo per me, ma ovviamente non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Vi giuro che non sto capendo niente della mini avventura di Capone, quindi lasciamola stare e partiamo subito dal capitolo in questione. Il tutto inizia con la marcia dei 9 foderi rossi, insieme al loro padrone, mentre si dirigono su Onigashima. Questa scena viene accompagnata dal suono degli Shamisen, ma contro ogni aspettativa Kaido gli va incontro e dice al Kozuki che sapeva già tutto, dato che ha una spia nel suo castello. E qui già non sapevo più a cosa pensare, ma vorrei comunque continuare prima di soffermarmi sulla questione spia, che ci attanaglia la mente da non so quanti mesi. Il dragone continua dicendo che 5 anni fa, se Oda non avesse deciso di farsi di ridere, ballando mezzo nudo in piazza solo per salvare i cittadini dell'isola, lui e Orochi avrebbero avuto la peggio. Infatti sarebbe bastato che Oden si alleasse con Yogoro e avrebbe sconfitto, non con facilità, sia Orochi che Kaido. Ma dato che Oden è potente quasi quanto Roger e barba bianca, ma come loro possiede un animo buono, decise di fare ciò che tutti noi abbiamo visto nel precedente capitolo. E questo ha comportato l'aumento della forza militare dello Shogun e dell'imperatore. E quindi ora, parlando sempre del presente del flashback, risulta più difficile sconfiggere le due fazioni. Quindi, diciamola tutta, per colpa del suo animo buono si è fatto abbindolare per bene. Perché anche se loro avessero dato la loro parola, su qualsiasi cosa fosse il loro patto, Oden non poteva credergli al 100%. Basti pensare come ha ridotto Orochi e come è riuscito ad impossessarsi del titolo di Shogun. Vabbè, lasciamo perdere la scelta stupida che ha fatto Oden e continuiamo. Quest'ultimo stufo di sentire le parole taglienti del dragone decide quindi di attaccarlo, facendo fuori non so quanti subordinati di Kaido. Naturalmente anche i foteri rossi fanno lo stesso seguendo il loro signore. Nel frattempo Yasuya si trova nel castello di Oden a proteggere la sua famiglia, sotto richiesta del Kozuki stesso. Però nonostante le parole negative del riccio, Toki non sembra impaurita. Forse perché già aveva in mente di far andare nel futuro uno dei suoi due figli, per far sì che la profezia si avveri e che Wano venga finalmente aperta al mondo. Dopodiché la scena si risposta sul campo di battaglia nella regione di Udon e qui rimango un po' perplesso. Infatti Oden viene salvato da niente poco di meno che Shinobu e quest'ultima spiega che non vedeva l'ora di combattere per i Kozuki, perché ha sempre creduto in loro e non accettava il fatto che Fukuro Kuju e ovviamente Yoni wa Banshu avessero deciso di sottomettersi ad Orochi, giurando fedeltà a quest'ultimo. Quindi gli undici samurai dove vengono contati anche i due ninja, cioè Raizo e Shinobu, si scontrarono ferocemente contro migliaia di pirati, tra cui possiamo vedere Queen e King, ma non Jack. E questa cosa è alquanto strana, dato che quando Kaido distrusse il castello di Oden, nell'ombra Oda ci mostrò tre ombre, tra cui una che sembrava Jack. Forse avremo delle risposte quando ci mostrerà la distruzione del castello del Daimyo di Kuri. Comunque sia, la battaglia durò più di quanto ci si aspettava, dato che la potenza di Oden superò ogni aspettativa dei nemici. Infatti quest'ultimo, con una delle sue tecniche a due spade, riesce a ferire Kaido, causandogli quella vistosa cicatrice che tutti noi conosciamo. E mentre stava per scacciare o addirittura uccidere il dragone, succede qualcosa di inaspettato. Un pirata aveva con se Momonosuke ed era pronto a toglierlo di mezzo. Oden corse naturalmente in soccorso di suo figlio, ma ovviamente era impossibile che fosse Momonosuke, dato che quest'ultimo stava nel castello dei Kozuki a Kuri. Infatti alla fine si tratta della vecchia Kurozumi, che possiede i poteri del frutto mane mane, e questo brutto tiro costò ad Oden e ai foderi rossi la sconfitta. Infatti Kaido con un colpo potentissimo colpì alla testa del Kozuki, facendolo svenire, e nel mentre le calamità sconfissero tutti gli altri foderi rossi. Ok, prima di andare alla parte finale del capitolo, dobbiamo parlare dello scontro tra Oden e Kaido. Potrebbe essere strano vedere Kaido che stava per essere sconfitto, ma noi sapevamo già da tempo che la cicatrice era stata inferta da Oden. E ricordiamo che il Kozuki era forte quasi quanto Roger e Barba Bianca, e questi due erano sicuramente più potenti di Kaido, e a rigor di logica Oden dovrebbe essere uguale o poco più forte di Kaido, parlando sempre di vent'anni prima del presente, perché durante questi anni l'imperatore potrebbe essere diventato più potente. E ricordiamo che Kaido non è imbattibile, infatti è stato sconfitto sette volte, e catturato dalla marina svariate volte, quindi non vedo perché tutte queste discussioni. Però possiamo vedere che nonostante Oden stesse quasi per vincere, per colpa di un trucchetto, che ci sta, perché alla fine sono pirati, non dimenticatevi mai questa cosa, Kaido con un colpo ben piazzato riuscì a metterlo KO. Quindi la potenza del dragone è nettamente superiore a quella di Oden, ma la potenza non è tutto, servono anche altre cose per poter vincere uno scontro. Spero di essere stato chiaro, e spero che non ci siano più dubbi riguardante la potenza di questi due grandi personaggi. Comunque sia, i nuovi foderi rossi e Oden vennero rinchiusi nella prigione di Rasensu, però stranamente Shinobu non era con loro, proprio perché Oden l'ha salvata, dicendo che non faceva parte dei suoi vassalli, e questo scagiona, per ora, Shinobu, anche se credevo che fosse realmente lei la spia. Continuando, la sentenza è stata decisa, e i dieci samurai verranno bolliti fino alla morte tra tre giorni, e il capitolo finisce qui. Eh sì, il flashback di Oden si sta rivelando più lungo del solito, e dovrebbe essere anche il più lungo visto finora. Ora noi sappiamo che solo Oden morirà, e i foderi rossi rimarranno in vita, quindi l'unica cosa che posso pensare è che tutti i daimyo andranno lì a liberarli, ma Oden rimarrà e si farà giustiziare, per permettere ai suoi vassalli di fuggire, o almeno è questo che mi ha fatto capire Oda, ma sappiamo che non è mai tutto come dovrebbe essere, e soprattutto, se non è Shinobu la spia, chi è questa persona che sta passando informazioni a Kaido e ad Orochi, anche nel presente? È davvero uno dei foderi rossi? Qui davvero non so cosa pensare, sono rimasto un po' allibito, diciamo così. Però una cosa è certa, il flashback sta per finire, e dopo tanto tempo ritorneremo nel presente, è lì sì che le vedremo delle belle, ed io sinceramente non vedo l'ora. Il video è finito, seguitemi anche su Instagram se vi va, troverete il link in descrizione e nel primo commento. Come sempre vi ricordo la collaborazione con Pampling, link in descrizione, e approfittando della nuova offerta 3x30 potete acquistare 3 maglie ad un prezzo esagerato, io se fossi il voi non mi lascerei sfuggire tale occasione. Come sempre vi chiedo di farmi sapere la vostra a riguardo, non dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Legacy e AnimeTubers e noi ci sentiamo in un prossimo video.